Buonasera e bentornati nei nostri studi per l'approfondimento serale del lunedì, come avete visto dal titolo, questa sera parliamo di scuola, parliamo di formazione e di orientamento dei ragazzi verso le loro scelte future. Questa sera lo facciamo con l'assessore regionale all'istruzione alla formazione Ilaria Cavu, che saluto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Insieme a lei Maurizio Cantamessa, membro della Confindustria dell'Etiguglio, delegato proprio alla formazione. Buonasera a tutti. E Norbert Kunkler, dirigente scolastico dell'Istituto Liceti di Rapallo. Buonasera a te. Buonasera, grazie per l'invito. Iniziamo subito con l'assessore. In questi giorni c'è stato un evento importante a Genova, quello di Futura, il tour che ha toccato proprio il capoluogo Ligure. Il nostro sistema di istruzione è un incubatore di progresso, ha detto il ministro Bussetti. Questo quanto è vero anche per i ragazzi della Liguria? Da quello che io ho visto nelle piazze di Genova è verissimo. Tra l'altro siamo qua, siamo con un dirigente scolastico di una delle scuole più attive, perché il Liceti lo scorso anno ha ospitato una tappa del percorso del tour di Futura nazionale. Quest'anno la particolarità è che anche grazie al loro lavoro e un po' grazie al nostro, insomma, di accordo con il ministero e di stimolo, siamo riusciti a portare a Genova non una delle tappe, ma la tappa nazionale e la tappa di partenza di tutto il tour nazionale. Quindi l'evento nazionale, che ha voluto dire la presenza del ministro, di tante autorità, ma soprattutto il finanziamento di un evento che è durato tre giorni, che è davvero invaso Genova, è appunto, diciamo, è stato il momento clou. Adesso il Futura avrà altre tappe nel resto d'Italia, però di fatto la scelta di fondo è stata Genova per lanciare questo grande momento di, diciamo, formazione dei giovani, competizione, che è servita ai ragazzi di tutta Italia, che si sono ritrovati, sono stati più di 8 mila, ma anche di, diciamo, mostra, di messa in mostra non soltanto per i ragazzi, ma per le famiglie, per i docenti, per tutti i genovesi anche che si sono fatti incuriosire di quello che può essere il potenziale della tecnologia. Io devo dire che mi sono un po' fatta rapire per una giornata intera a girare non tanto nelle aule della formazione stretta, ma nelle sfere, che insomma vedete, avete delle immagini molto belle anche voi, all'interno delle sfere che erano appunto disseminate in tutta Genova, c'erano le prove e la dimostrazione di quello che le scuole, dei progetti avanzati delle scuole in campo tecnologico. E veramente abbiamo visto robot che gareggiavano tra loro giocando a calcio, abbiamo visto ragazzi che danzavano suonando un pianoforte con i piedi, unendo la danza alla musica, quindi facendo musica con la danza. C'era un muro di sensori che i piccoli dipingevano con dei pennelli imbevuti d'acqua che poi si ripulivano e potevano rifare un quadro sullo stesso muro. Sto facendo ovviamente degli esempi. A me ha colpito tantissimo una ragazzina di dieci anni, era di una scuola di Verona, che mi ha inseguito perché avevamo fatto delle dichiarazioni con una troupe a raccogliere un po' le interviste dei casi migliori e siccome lei non era stata intervistata ci ha inseguito dicendo ma anch'io voglio parlare e mi faceva vedere l'app, una ragazzina di dieci anni che mi ha preso il telefonino e mi ha detto vedi qui c'è il QR code, fai così, veniva fuori l'app, adesso mi faceva navigare nell'app che aveva fatto con i compagni per mostrare le bellezze del suo paese a dieci anni. Allora che cosa è futuro? È un modo per cui noi impariamo dai giovani perché delle volte abbiamo bisogno di imparare da loro, ma soprattutto in cui si capisce come la tecnologia può essere applicata a vari campi, la cultura, lo sport, hanno giocato a pallone i ragazzi e poi a calcio e hanno poi fatto un resoconto della partita con i dati digitali arrivati dai sensori che avevano, insomma come la tecnologia può essere applicata in tanti campi, come può essere positivo usare la tecnologia e non sempre dannoso perché poi abbiamo anche ovviamente i momenti in cui i ragazzi si dice di non eccedere nell'uso dei social. Futuro è proprio l'evento che spiega loro come la tecnologia sia importante, come non sia da demonizzare senza che applicarla solo al tempo libero, la si pensa come momento didattico e anche come momento per una scelta di un lavoro futuro. Perché è chiaro che noi dobbiamo dirlo, gridarlo, lo voglio fare anche qui stasera, che il grande gap di competenze è in campo digitale. Abbiamo aziende che cercano per it informatici, per it tecnici, mestieri tecnici legati all'informatica di ingegneri e non li trovano. E non li trovano perché i ragazzi delle ultime generazioni hanno fatto scelte diverse, perché probabilmente non c'era nessuno e non c'era la forza che c'è adesso di istituzioni e aziende che lo dicono ai giovani, dobbiamo farlo per evitare che il gap si allarghi perché i ragazzi di adesso possano scegliere materie di questo tipo anche per il loro lavoro, avendo di fatto la certezza di poterlo trovare un posto di lavoro. Questo dobbiamo dirlo e futura è servita anche a questo. Oggi c'è una maggiore consapevolezza di questo, sia da parte della scuola che dei ragazzi secondo lei? Allora, sicuramente c'è una maggiore consapevolezza da parte delle aziende, questo lo dico perché si recepisce il cambio di passo, perché è un momento storico in cui le aziende capiscono per prime che non trovano persone da impiegare. Mentre abbiamo passato anni di crisi, di disoccupazione punto, adesso invece in alcune aree la disoccupazione c'è sempre, non siamo qui a dire che la disoccupazione non c'è, ma abbiamo altre aree e non sono poche in cui invece le aziende fanno fatica trovare persone per le figure di cui hanno bisogno. Allora secondo me c'è una consapevolezza anche delle aziende di non aver agito in un senso di orientamento ai giovani, perché se il sistema avesse funzionato bene e le aziende fossero andate nelle scuole come noi adesso stiamo provando a fare per recuperare il tempo perduto, però è chiaro che un ingegnere non me lo formo in un anno, ma neanche un perito informatico lo formiamo in un anno, quindi ci vuole del tempo per ridurre quel gap. Se le aziende in passato avessero avuto quest'azione, avessero fatto quest'azione, probabilmente questo grande gap non ci sarebbe. È chiaro che programmare per le aziende, soprattutto per il tessuto ligure che è fatto di medie e piccole imprese, gli fa bisogni a 3-5 anni non è facile, perché altrimenti sarebbe stato semplice tutto, però adesso con la presa di consapevolezza che credo tutti abbiamo, noi istituzioni che abbiamo questo compito di orientare, le aziende che hanno una grande disponibilità ora a venire al Salone Orientamenti che organizza Regione Liguria a novembre, a venire nelle classi a spiegare di che cosa hanno bisogno, sono sensibili, lo si vede nei vari eventi, siamo stati qui a Chiavari pochi giorni fa, insomma con questa sensibilità anche delle aziende, degli insegnanti e delle famiglie, perché le famiglie non possono essere escluse, devono essere in questo percorso, io credo che un cammino insieme lo si possa fare. Certo bisogna correre un po' perché per recuperare anni di scelte che non sono state indirizzate, poi significa che noi abbiamo degli imprenditori come Capitato Orientamenti che vengono a dire, ho bisogno, non faccio i nomi perché ovviamente non voglio fare una pubblicità in diretta a nessuno, ma aziende Liguri che sono venute a dire, noi abbiamo bisogno di 35 programmatori e l'università sforma 20 ingegneri all'anno, però ci sono 2000 iscritti a giurisprudenza, queste cose bisogna avere il coraggio di dirle. Lei citava proprio la scuola di Rapallo, il Liceti che ha vinto le olimpiadi di robotica ed era presente proprio a Futura con un progetto che riguarda il porto di Rapallo, in questo caso i ragazzi come sono stati coinvolti, come si sono trovati anche in questa esperienza molto diversa diciamo dal curriculum scolastico normale? Sì, allora questa vittoria alle olimpiadi di robotica si riferisce ad un oggetto, un piccolo robot che si chiama Hydrocarbot inventato da 4 ragazzi che hanno sfruttato una spugna inventata dall'Istituto di Terreno di Tecnologia che trattiene gli idrocarburi e fa passare l'acqua e attraverso questa invenzione loro hanno, guardando appunto il disastro del porto di Rapallo, hanno pensato di inventare un oggetto semovente che è in grado di depurare le acque marine e quindi dall'idrocarburi liberando l'acqua pulita e recuperando gli idrocarburi quindi con questo hanno vinto le olimpiadi di robotica e soprattutto per me Preside Futura e questo tipo di esperienza rappresenta uno stimolo molto importante per tutto il mondo della scuola. Devo dire che chi ha vissuto questi giorni di Rapallo e in tutti i suoi momenti, molto toccante è stata anche la cerimonia conclusiva che ha un po' sintetizzato molti momenti, vede una sorta di rivoluzione, la necessità di una rivoluzione, di un cambiamento, ecco Futura è una spinta verso il cambiamento in cui certamente l'elemento della tecnologia è molto importante, è centrale, il digitale è indubbiamente il simbolo del cambiamento però come Preside io sono molto attento a un cambiamento profondo, a una realtà che viene vista diversamente al tema della sostenibilità, al tema del patto tra le generazioni, la rivoluzione di cui parliamo è il fatto che i ragazzi vengano presi e coinvolti in un altro modo nel processo di apprendimento, nel senso che i ragazzi devono essere diversamente ingaggiati dalla scuola, questo grosso problema dei ragazzi che perdono progressivamente motivazione lungo il percorso scolastico è un problema per me culturale, sociale e complessivo del Paese, lo sviluppo del Paese passa sicuramente attraverso un modello di scuola che mette in gioco i ragazzi, fa sentire ai ragazzi che la generazione adulta non è semplicemente ex cattedra, è con loro, è per loro e gli consegna in mano qualche cosa da fare e da fare con loro, questo non vuol dire perdere autorevolezza, questo vuol dire riconoscere i problemi del mondo presente e tra questi problemi c'è sicuramente il problema dell'ambiente. Infatti loro hanno vinto le Olimpiadi di robotica che erano a Nervi la settimana prima di Futura e poi sono stati ospitati, l'ho fatto con gioia all'interno della sfera orientamenti perché dentro Futura avevamo la parte di orientamenti di regione Liguria e quindi noi abbiamo portato i ragazzi del liceo e abbiamo fatto vedere questa loro sperimentazione, questo robot perché comunque l'idea è geniale ed è assolutamente attuale, poi diciamo che la parte finale di Futura, quindi i premi di Futura finali sono andati a una scuola di acqui e ad altri progetti che però avevano sempre l'ambiente e la sostenibilità come target, quindi è vero che c'è stata una tecnologia interpretata molto come sfida alla sostenibilità e sostegno all'ambiente, questo sicuramente. Ma i ragazzi nelle scuole, lei che li ascolta tutti i giorni, come vedono il loro futuro, si parlava appunto prima dell'orientamento, ma la scelta poi del percorso futuro come viene fatta? Cioè vanno un po' a fiuto oppure c'è una maggiore consapevolezza su quelle che sono le strade più attuali oggi? Io credo che il tema dell'orientamento dovrebbe entrare nella scuola in modo nuovo, nel senso che negli ultimi anni il legislatore ha proposto un modello di dimensionamento scolastico che ha in qualche modo creato un circolo vizioso. Da un lato è stato migliorato il processo di orientamento perché comunque c'è un'attenzione consapevole già nel primo ciclo di istruzione al problema, dall'altro però c'è una tendenza delle scuole superiori a vivere il problema dell'orientamento come a un problema di sopravvivenza dell'istituzione scolastica stessa e questo è veramente un gatto che si morde la coda. Però mi perdoni, lo ha detto lei perché non mi permetto di dirlo io, diciamo che non ho un ruolo all'interno degli indirizzi scolastici, il ruolo di regione per quanto riguarda la scuola è di coordinamento, di suggerimento, abbiamo un ruolo dell'orientamento ma ovviamente non della programmazione stessa, però è interessante quello che si stava dicendo. Mi permetto di dire che però è a tutti i livelli, cioè cosa stai dicendo? Che è chiaro che nel momento in cui tu hai dei parametri di dimensionamento che ti dicono che se tu non arrivi a 600 studenti, perdi la tua autonomia e perdi il dirigente scolastico e ovviamente tutti cercano l'accaparramento degli studenti al di là poi dell'effettiva possibilità che tanti studenti formati in un certo settore possano poi avere un futuro nel campo lavorativo, però questo accade a livello di scuola, accade anche a livello di università perché allora lo dobbiamo calare anche sull'alta formazione questo ragionamento e dire che forse bisognerebbe fare un orientamento forte per dire che magari 2000 ragazzi a giurisprudenza sono un po' in eccesso e che poi alla fine abbiamo troppi laureati in legge rispetto a quelli che sono invece le richieste in campo tecnico, che è il grande sforzo che sta facendo Confindustria come messaggio sull'importanza del ritorno alla formazione tecnica perché mancheranno le stime che da Confindustria, sono incredibili da quello che digitale, parliamo proprio di istruzione tecnica, noi lo stiamo facendo credo con un grande progetto di orientamenti che è un salone ma anche di orientamento nelle scuole che poi è lo stesso progetto che si porta nelle classi e noi vogliamo e stiamo puntando a questo grazie ad Aliseo, al nostro ente strumentale, a tutta la squadra che sta lavorando, arrivare al prossimo salone orientamenti con un registro dei testimonial, lo stiamo chiedendo a Confindustria, lo stiamo chiedendo a tutta la parte dattoriale, che le aziende vadano in classe in maniera sistematica, non sporadica a parlare ai giovani per far capire di che cosa hanno bisogno o di che cosa non hanno bisogno, per aiutarli nelle scelte, questo è un passaggio assolutamente fondamentale con quel tema di fondo di cui parlava il professore che non voglio eludere perché invece Regione ha, e noi l'abbiamo fatta come richiesta forte al Ministro e la stiamo facendo come anche non a Commissione, che è la Commissione delle Regioni che si occupa di formazione e di istruzione, ovvero la richiesta di trovare una modulazione del dimensionamento scolastico, che è quello che fa iniziare quel circolo vizioso della sopravvivenza ai singoli istituti, con una maggiore tolleranza, cioè troviamo una media regionale, diciamo noi, questa è la proposta della Regione Liguria, poi si può anche fare una media nazionale, ma troviamo un numero per tutti, non obbligatorio, ma che la Regione debba rispettare nella sua media, poi se io ho un istituto che è in eccesso di un po' di studenti, ne ho uno che ne ha 700 e ne ho uno che ne ha 500, posso decidere come Regione in autonomia che sopravvivono entrambi, perché comunque la media mi fa 600 uguale, e questo è un filone che stiamo portando avanti, avrete visto le dichiarazioni anche del Ministro che erano sulla prima pagina di un quotidiano regionale importante e che ha detto che lui ha aperto il tavolo sull'autonomia e sul dimensionamento, perché quello che gli abbiamo chiesto per una funzionalità ovviamente di servizio scolastico in una Regione come la nostra, che è un territorio vario, per cui è chiaro che avere la scuola in collina non è come averla in città, anche nei numeri degli studenti, ma che poi serve anche per quel discorso di orientamento per evitare quel circolo vicioso per cui poi alla fine sono le stesse scuole che si devono accapparare gli studenti. È un ragionamento che avviato, non è finito, non è scontato, ma anche su questo ci stiamo impegnando e credo che ne possa beneficiare il territorio, nelle sue esigenze specifiche e gli alunni nelle loro scelte, perché allora sì che l'orientamento può essere puntuale e molto diciamo onesto. Credo che se ho capito bene quello che voleva dire. Sì, sì, sì. Sentiamo allora Cantamessa proprio come Confindustria, si occupa proprio di formazione, ecco in questo senso, come incontrate i ragazzi, che iniziativa svolgete? Sì, io in Confindustria devo dire che ormai è da sei anni che faccio parte della giunta del Tiguglio qua e ho trovato una, mi pare, una sensibilità piuttosto alta da questo punto di vista, anzi raccolgo quello che è stato detto anche venerdì al convegno, dove tra i tanti censimenti che ci sono oggi sulle aziende, quello sul conoscere i fabbisogni veri e reali delle aziende credo che sia una cosa utile per aumentare il matching con le scuole. Da questo punto di vista Confindustria almeno da due anni a questa parte ha credo toccato i liceti sicuramente e l'istituto di Chiaveri di Seste Levante, ha fatto delle mezza giornate insieme agli studenti e tutte le aziende, anche quella che rappresento io all'interno di Confindustria che è il gruppo Tassano, hanno per quanto possibile offerto, ha aperto le porte per percorsi, inserimenti, alternanza scuola-lavoro eccetera. Si fa abbastanza di questo secondo lei? No, direi di no, ma credo che dobbiamo crescere insieme anche perché a volte il rischio che l'ostegista stia un mese a fare fotocopie c'è, si è detto anche al convegno, quindi io da questo punto di vista se posso portare una testimonianza, un mese fa abbiamo fatto una giornata intera con ragazzi della terza superiore e in modo del tutto improvvisato, la giornata è finita con una simulazione di costituzione di una società, del tutto improvvisato perché non era programmato, anche perché abbiamo voluto proprio interagire con i ragazzi per vedere e con l'insegnante che era con loro, per vedere i loro interessi, alla fine si sono divisi in due gruppi, hanno creato due società, hanno addirittura fatto il logo, hanno trovato il nome, siamo andati dal notaio naturalmente in tutto in modo simulato, abbiamo aperto le posizioni alla Camera di Commercio, all'INSA, all'INA, eccetera, eccetera, e alla fine erano un po' storditi ma non se ne andavano più, alle 5 dovevano andare via, alle 5 e mezza erano ancora lì, quindi credo che il gioco di ruolo forse potrebbe avere una... Non è un caso che l'indagine, se non ricordo male, l'indagine che è stata presentata venerdì in questo bel convegno, promosso dalla diocesi, a cui abbiamo partecipato, diceva e parlava di un'altra propensione dei giovani all'autoimprenditoria, i dati dicevano proprio questo, quindi è evidente che c'è una propensione all'autoimprenditoria che poi magari porta davvero le esperienze di alternanza ad arrivare a questo, cioè alla costituzione della società. Si pensa più al lavoro dipendente ma c'è questo passaggio nuovo, questi erano i dati statistici del convegno di venerdì scorso. L'altro dato che a me aveva colpito è il fatto che i ragazzi della formazione professionale parlavano di un'alternanza scuola-lavoro fatta bene, cioè la propensione all'alternanza scuola-lavoro, la vicinanza al lavoro riconosciuta per i settori della formazione professionale che a me piace ribadire anche in questa sede, non sono di serie B rispetto alla scuola tradizionale perché noi abbiamo dei validissimi indirizzi di scuola e il mondo è importantissima la scuola, però abbiamo una fascia di ragazzi che non se la sente di dire faccio 5 anni di scuola e superiori e quei ragazzi vengono incanalati in un percorso e viva Dio che c'è di formazione professionale che sono i triennali, in questa zona del Figulio ne abbiamo tanti dai termoelettrici all'operatore del legno, all'operatore del benessere, alla cucina, i cuochi eccetera, abbiamo degli enti di formazione molto validi, quindi anche corsi internazionali molto validi e sono importanti perché i ragazzi per tre anni studiano, poi dopo i tre anni abbiamo un successo, abbiamo tutti insieme i corsi dell'85%, vuol dire che i ragazzi o tornano a lavorare, scusate, o vanno a lavorare o si rincanalano in un percorso di studi normale, quindi il valore antidispersione di questi corsi è molto forte, ma anche il valore di introduzione del mercato del lavoro. Ci sono percentuali di inserimento lavorativo anche molto alte? Beh, l'85% è la percentuale di successo del corso, di cui mi sembra che il 47% vada a lavorare, vada a memoria e il resto continua gli studi, quindi è alta per quanto riguarda i triennali, chiaramente è più alta la percentuale occupazionale degli altri corsi che sono over diciamo 18 anni, over triennali e che abbiamo bandito in maniera abbastanza costante per quanto riguarda la formazione professionale, quindi corsi che potevano essere del bando over 24 aperto a tutti i settori, oppure del bando Blue Economy che è stato successivo, oppure del bando del turismo che adesso è in corso, perché abbiamo chiuso la graduatoria, alcuni corsi sono già partiti, altri stanno per partire, io ho fatto fare oggi un po' un calcolo di quanto è stato stanziato da questa giunta regionale, quindi dati appunto in questi anni, in fatto di formazione professionale per il Tiguglio e sono stati stanziati diciamo a bando, quindi ex post, non c'è stata una scelta di dire al Tiguglio va tot a un'altra provincia, perché questo non è nelle nostre competenze. Abbiamo però emanato bandi per i quali sono stati fatti progetti da gli enti di formazione che dopo le scelte delle commissioni hanno portato a erogare al Tiguglio 10 milioni di euro di corsi, io credo che sia un numero molto alto e molto importante, che è un segnale è un segnale da un lato di una vitalità di questo territorio, perché questo dobbiamo dire la vitalità degli enti di formazione, abbiamo il villaggio del ragazzo, abbiamo altri enti come forma, come la scuola alberghiera che adesso è diventata accademia del turismo e che ha saputo portare al proprio interno le aziende, Confindustria, quindi un passaggio importante sul tema del turismo che non possiamo poi non cogliere, sto citando diciamo un pochettino abbraccio, abbiamo però evidentemente anche un tessuto di aziende pronto a dialogare con questi enti, perché tutti i bandi che abbiamo fatto hanno un vincolo assunzionale, i progetti non possono essere presentati se non c'è almeno il 30% di occupazione prevista e questi corsi, soprattutto quello della Blue Economy, ha portato un'occupazione di oltre il 60%, anche il 70%, alcuni corsi che sono stati fatti qua, vedo qua Hostess e Steward da Diporto 82% di esiti occupazionali, sono numeri alti, quindi vuol dire che questo è una zona e il tiguglio può esprimere molto in fatto di dialogo tra aziende ed enti di formazione e quindi credo che possa ancora ambire ad avere risorse, noi abbiamo in questo momento chiuso diciamo il bando del pacchetto giovani, sono altri 8 milioni di euro su tutta la regione stanziati, è in corso la valutazione, però anche qui è possibile che arrivino nuovi progetti su questo territorio ed è chiaro che la vocazione sempre più evidente se poi si vanno a ritroso a leggere i progetti è quella di Blue Economy, intesa in senso ampio, e quella del turismo intesa in senso altrettanto ampio e quindi dobbiamo seguire questa vocazione e noi evidentemente sostenere quella formazione di cui hanno bisogno le imprese. Eppure comunque c'è questa tendenza a pensare alla formazione professionale, come diceva l'assessore, una formazione di serie B, c'è quasi un andamento dei ragazzi poi verso i licei, come si può superare questo secondo lei? Questo è un problema generale di orientamento, è un problema culturale generale in cui tutti devono impegnarsi, qui ci vuole una grande sinergia, altri stati europei molto avanti sul piano economico hanno un modello duale che vede quasi la metà degli studenti impegnati in questo ambito, quindi noi abbiamo bisogno di crescere da questo punto di vista, abbiamo bisogno di superare questo gap tra una visione direi classista della scuola, in cui il liceo è la scuola di coloro che hanno delle doti e il resto del mondo è una scuola per coloro che non hanno doti e questo è veramente sbagliato, è veramente pernicioso, è negativo per i ragazzi, è un anti orientamento questo, quindi c'è un grande bisogno di rompere questo mito, perché in realtà la grossa differenza che dovremmo sottolineare è quella tra coloro che effettivamente hanno una vocazione per proseguire gli studi nell'università e coloro che per una serie di motivi hanno una vocazione diversa che poi può comunque andare verso l'università ma fa un percorso di studi validissimo che stimola tutta una serie di competenze e capacità che l'altro percorso di studi per un'altra serie di ragioni non può stimolare, quindi in realtà sono due modelli diversi, forse il fatto che siano tre è un po' fuorviante, ecco questa istruzione liceale tecnico-professionale che forse è stata fatta per dare spessore maggiore a ciò che non è semplicemente percorso liceale, però attualmente l'impressione è che la scommessa non sia stata vinta ancora perché c'è una crisi di risoluzione tecnica e professionale e un incremento. Non è vero che lo confermano, non soltanto quelli della Liguria, ma un trend nazionale purtroppo, perché continuano le iscrizioni ai licei e sono sempre in calo le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali, poi qui esiste una tripartizione nel mondo della scuola tra licei, istituti tecnici e istituti professioni, poi esiste la formazione professionale che è quella di cui parlavo io prima, che sono i corsi che dipendono dalla regione per cui noi decidiamo le qualifiche, che sono i corsi del benessere, dell'operatore del turismo, del meccanico, dell'operatore del legno, insomma quei corsi molto professionali che durano tre anni e che portano all'occupazione di cui dicevamo prima. Quindi c'è una vasta gamma di offerta, il punto è che poi la scelta primaria rimane quella del liceo. Per carità di Dio è una scelta legittima, sappiamo quanto anche questo territorio è stato diciamo ha avuto il dibattito su un nuovo liceo, liceo linguistico, giustissimo, io non sto dicendo di no, però bisogna che le famiglie e i ragazzi poi scelgano sapendo che cosa aspetta dopo e questo credo che sia assolutamente, ribadisco l'impegno di tutti, citava il professore, il sistema duale che in Germania è applicato diciamo in maniera generalizzata. Qui da noi vi è stato applicato con un sostegno di finanziamenti dallo Stato per la formazione professionale, ovvero per far fare l'apprendistato in azienda a quei ragazzi che scelgono la formazione professionale, quindi non a quelli dei licei, a quelli degli istituti tecnici, no a quelli che scelgono la formazione professionale. Siamo partiti con grandissima difficoltà in questa regione, nonostante le agevolazioni per le aziende, adesso noi siamo a, e abbiamo aumentato di quasi il 300%, siamo arrivati a 540 iscritti in tutta la regione, sono numeri alti rispetto al dato di partenza, abbiamo coinvolto i consulenti del lavoro perché andassero nelle aziende a far capire il vantaggio anche per l'azienda del sistema duale, però è stato faticoso, vuol dire che le aziende stanno faticando a capire questo percorso, complice il fatto, e lo ripeto, che la struttura imprenditoriale della nostra regione non è fatta di tante grandi aziende, le grandi aziende le contiamo veramente sulle dita di una mano, le altre sono tutte medie piccole, è chiaro che una media piccola azienda prima di prendere un ragazzo in duale, prima di fare quel tipo di contratto e l'apprendistato e che obblighi o eccetera, si ferma e non lo fa. Ora abbiamo incentivato, però anche qui credo, poi magari Confindustria ci vuol dire qualcosa, si potrebbe fare di più. Sentiamo la cantamessa su questo aspetto. Si potrebbe fare di più, adesso a me viene in mente i nostri percorsi, perché in questi anni anche noi siamo un gruppo, io rappresento un gruppo che è formato da tante piccole e medie imprese, quindi è vero magari un gruppo tassano, un gruppo grosso, ma in realtà sono tante piccole e questa difficoltà c'è. Questa difficoltà c'è, in questi anni, intanto vanno delle immagini, abbiamo anche noi una tipologia di lavoro relativamente semplice, quindi non siamo una start up innovativa, non so, quindi non facciamo né robotica né altre cose di questo tipo. Quello che diciamo, che abbiamo sempre fatto e che ci piace fare e che diciamo sempre è l'inserimento al lavoro di fasce deboli. Noi abbiamo visto che tutti i ragazzi che sono venuti da noi, venerdì si parlava di soft skill, adesso si dice di competenze orizzontali, erano pur facendo lavori semplici, erano contenti, andavano via contenti, perché avevano apprezzato il valore di lavorare per sostenere un sistema a sostegno delle fragilità. Questa è un po' forse quella, diciamo, la nostra competenza più trasversale che possiamo portare come testimonianza. Ecco, venerdì al convegno, quello promosso dalla diocesi, saper essere e saper fare, lei ha lanciato anche questo aspetto che riguarda un modo per captare quelle che sono anche le necessità delle aziende, attraverso una sorta di questionario, di monitoraggio che dalle Camere di Commercio dovrebbero raggiungere le varie aziende. Io ho risposto a una domanda che è arrivata proprio dai ragazzi, una delle proposte del convegno di venerdì era quella di creare una sorta di sportello, lì è stato detto nella proposta presso Filse, che è la finanziaria delle regioni Liguria, per monitorare le esigenze delle aziende, sia in fatto di, diciamo, di hard skill, quindi di che figure professionali hanno bisogno, sia di soft skill, quindi fare un monitoraggio ad ampio raggio presso le aziende. E questa richiesta è stata avanzata intorno alle undici e mezza, mezzogiorno di venerdì scorso. Io mi sono permessa di dire che stavo andando a una conferenza stampa che poi si è tenuta, quindi poi la stampa e i telegiornali hanno riportato questa cosa in maniera dettagliata poco dopo. E ho detto che innanzitutto, vabbè, la proposta era presso Filse dello sportello, io non ho sposato dove lo collochiamo questo sportello, ma è chiaro che sarà l'esito di un percorso che abbiamo avviato. E in che cosa consiste? Eravamo tre assessori a presentare questo progetto insieme alle due Camere di Commercio, quella di Genova e quella delle Riviere e a tutte le associazioni datoriali, quindi era presente Confindustria, era presente Ascom, erano presenti tutti gli artigiani, eccetera. In che cosa consiste questo progetto? Ribadisco, c'ero io, c'era l'assessore Berrino che era l'assessore al lavoro e c'era l'assessore Benveduti che è l'assessore allo sviluppo economico. E quindi è importante questa unione perché vuol dire che ce la facciamo se ci mettiamo tutti insieme. L'idea è partita dallo sviluppo economico e quindi dall'assessore Benveduti che un giorno mi dice, ma scusami, ma io voglio fare un sondaggio presso le aziende per capire di quali figure hanno bisogno, perché vedo che c'è una distanza tra quello che le aziende cercano e poi i ragazzi, soprattutto che livelli di formazione alta di università hanno. E gli dico, beh, certo. Io ho risposto al mio collega, io sulla formazione professionale lo sto facendo sempre di più questo, perché è chiaro che nei bandi della formazione avevamo già stretto le maglie e avvicinato le aziende ai percorsi della formazione. Però il ragionamento che veniva fatto era più ampio e quindi ci siamo messi a studiare questo progetto, siamo andati a presentarlo al ministro Bussetti, che è il ministro dell'istruzione, che di fatto ha dato il suo endorsement assicurando la sua presenza in autunno quando presenteremo i dati e questo è importante, perché in che cosa consiste il progetto? Nel fatto che le camere di commercio dirammino un questionario dettagliato a tutte le aziende per capire quali sono le figure professionali che cercano ora, tra un anno, tra tre anni e tra cinque anni. Questo ci permette di programmare. Il progetto si chiama Dopodomani, non è un caso, perché sull'emergenza abbiamo un po' di strumenti, noi abbiamo ammennato lo strumento della formazione a sportello, se c'è bisogno di formare professioni rapide lo strumento c'è a livello di formazione professionale, lo sanno le aziende, lo sanno anche gli enti. Però noi non possiamo continuare a vivere nell'emergenza, noi dobbiamo fare una programmazione tutti insieme e allora per questo il progetto Dopodomani, perché si fanno i questionari, si hanno i dati, si riflette sui dati e si decide a quel punto ognuno con le proprie competenze come programmare i bandi. Per cui è chiaro che i dati che arriveranno a me serviranno per i prossimi bandi settoriali della formazione professionale per decidere su quali settori puntare, ma serviranno anche per il dimensionamento scolastico e per il piano dell'offerta formativa per capire se esiste un'omogeneità con la richiesta delle aziende e serviranno soprattutto, e c'era il Rettore che ha parlato in questa conferenza stampa in maniera chiara e molto collaborativa, perché l'università dovrà recepire i profili di cui c'è bisogno per adeguare i corsi e provare a indirizzare di più gli studenti in quei corsi che poi sfornano dei laureati che hanno un riscontro sul mercato del lavoro. Ma io lo dico veramente, noi abbiamo una carenza tale di professioni tecniche per le quali le aziende, e io ho parlato ancora recentemente anche col presidente di Confindustria Boccia, che sarà di nuovo orientamenti, stiamo portando avanti il progetto per cui le aziende adottano l'istituto, quindi un'azienda si adotta un istituto tecnico superiore in modo da, diciamo, fidelizzare i ragazzi e da far capire ai ragazzi che cosa devono imparare in tempo. Ma la verità è che le aziende hanno bisogno di professionalità e già gettano gli occhi sugli studenti degli istituti tecnici già al quarto anno. E per rispondere alle esigenze di tutte le aziende Liguri in questo momento in fatto tecnico non ci bastano gli istituti tecnici che abbiamo in Liguria, non ci bastano i quarti e i quinti anni. Non credo di dire dati esagerati, no? No, no, soprattutto è agganciato alla velocità di cambiamento, perché cito i lavori semplici che dicevo prima, filtri aria per auto, fra cinque anni probabilmente non ci saranno più. Noi stessi abbiamo iniziato a fare volare droni per fare il rilievo termografico degli impianti fotovoltaici, per citare un esempio, oppure la tecnologia che è andata, diciamo, il progresso tecnologico che c'è stato sugli applicativi amministrativi fiscali è stato velocissimo. Quindi un dopodomani, noi ce l'avremmo già da scrivere delle skill. E allora la cosa più bella è se rispondete al questionario che vi arriverà dalle camere di commercio, perché è importante, no a parte scherzi, ma io credo che entro un mese parta il questionario, è importante che le aziende rispondano, c'è il grande senso di responsabilità sociale delle aziende, è la risposta a questi questionari, perché non riguarda qualcun altro, riguarda i nostri ragazzi e la possibilità di formarli in maniera adeguata, quindi sarà preziosa la collaborazione delle aziende, di ogni tipo. Però io credo sia per dire che manca il saldatore, sia per dire che manca il panificatore, sia per dire che manca l'ingegnere specializzato in quale ramo specifico della meccatronica. Sono stata un po', ma per semplificare, noi abbiamo bisogno di tutto l'arco delle professioni. Cantanessa? Una selezione sui questionari la facciamo noi in azienda, perché ne arrivano tanti, ma a questo risponderemo. Grazie. Andiamo velocemente, ci interrompiamo un attimo, andiamo a vedere l'intervista al legale che ha curato la proposta di cui citava l'assessore dei ragazzi, che è stato presentato al convegno di venerdì, poi ci ritroffiamo in studio. La proposta che oggi portiamo, trasferiamo e consegniamo consiste nell'insegnamento e quindi nell'intercettare le soft skills, insegnandole e a questo fine avere un'agevolazione da parte delle istituzioni locali, creando un ufficio ad hoc, in modo tale che poi possano dare delle agevolazioni sotto forma di contribuzioni dell'IRAP a favore di questo intervento che può portare vantaggio ai giovani nell'inserimento nel mercato del lavoro. Soft skills che mancano, che devono essere insegnate, che sono uno degli asset futuri dei giovani, ma anche dei meno giovani se vogliamo, affinché possano avere delle gratificazioni professionali in mercati molto, molto dinamici e pressoché globali. In questo dinamismo che lei diceva, spesso un giovane non riesce a orientarsi, quale consiglio possiamo dare a un giovane che dice come mi devo relazionare con queste norme sul mondo del lavoro, a chi posso chiedere dove posso andare? Lei dice benissimo, ecco perché proponiamo la creazione di un ufficio ad hoc per questo, che insegni le soft skills e soprattutto insieme all'insegnamento orienti i giovani in un mercato del lavoro che è di difficile percezione per i giovani, in poche parole in sintesi, oggi manca anche il collegamento, il collegamento tra il mondo reale, mondo professionale, lavorativo reale e il mondo scolastico, accademico. In questa maniera pensiamo di creare il giusto collegamento, giusto link tra questi due mondi che devono sempre più parlare insieme. Abbiamo sentito a grandi linee il tema di questa proposta presentata al convegno, dunque una sorta di vicinanza, di accordo tra aziende e scuole, anche degli incentivi a livello regionale come dei certificati di qualità e dell'agevolazione ad esempio sull'IRAP e questo sportello di cui lei parlava prima. Insomma, cosa ne pensa, qual è il suo pensiero? Dello sportello, mi sembra di aver già parlato, noi abbiamo un ente strumentale al diritto allo studio Caliseo, un altro ente che è Alfa, che gestisce tutto il fondo sociale europeo e fa da organismo intermedio regione Liguria, quindi francamente se devo vedere uno sportello di monitoraggio lo vedo più abbinato a una di queste due strutture che sono in diretto contatto con i giovani e meno finanziari rispetto a Filse, che è operativissima, io stessa lavoro spesso con Filse, però non sportello di questo tipo lo vedo più un cardinato in un'altra di queste due realtà. Chiaramente ho dato il mio riferimento ai giovani, faremo anche un incontro anche con gli altri assessori per capire come venire incontro alle loro esigenze, anche se credo che la risposta stia chiaramente nel progetto che abbiamo avviato. Quando arriveranno i numeri di questo sondaggio che facciamo a tappeto, quando la Camera di Commercio ci darà la restituzione di questi questionarii, credo che il monitoraggio che loro chiedevano abbia già almeno una risposta parziale. Sull'altro discorso francamente dell'IRAP, non ho risposto allora, è un tema molto legato al gettico, quindi non riguarda le mie idee lebre, perché io mi occupo di formazione e di istruzione di giovani, ne ho dieci, ma tra le dieci non c'è il bilancio, forse per fortuna. Detto questo, sarebbe da valutare a livello di gettito che cosa comporta, considerate che per l'esenzione all'IRAP che noi abbiamo fatto come regione Liguria per tutte le nuove aziende che si sono insediate in questo territorio, quindi sull'IRAP abbiamo già agito molto per stimolare l'attrattività della nostra regione, non è che non sia stato fatto niente come neva sull'IRAP e credo che si sia toccato l'aspetto fondamentale, cioè quello di portare nuove imprese qui per fare in modo che si avvii il volano del lavoro. Qui si dice di esonerare dall'IRAP le aziende che fanno alternanza scuola-lavoro, francamente mi sembra che diciamo la proporzione tra le misure, ecco, se bisogna lavorare sull'IRAP, esonerare l'IRAP, penso che si debba chiedere un qualche cosa di più consistente che l'alternanza scuola-lavoro rientri nella responsabilità sociale che le aziende hanno, tanto è vero che è stata mia cura nel Growat, che è una delle prime leggi che ha emanato questa giunta, inserire proprio per le aziende, nel registro delle aziende socialmente responsabili un canale privilegiato in caso di appalti a quelle aziende che fanno alternanza scuola-lavoro. Lo abbiamo riconosciuto in questo modo, io credo che sia sufficiente. Poi dopodiché, questo non toglie, che faremo tutta l'opera di lavoro per fare in modo che aumenti l'alternanza scuola-lavoro e non in quantità, perché non è un tema di quantità, ma in qualità. Regione Liguria ha ad esempio preso in alternanza scuola-lavoro 500 ragazze, abbiamo fatto 18 mila ore di alternanza scuola-lavoro, credo che IRAP o non IRAP una risposta siamo già riusciti a darla, senza contare che sull'IRAP per l'esonero bisogna che le aziende siano iscritte a un registro particolare, mi spiegavano, con delle certificazioni particolari e fare una misura massificata a coloro che fanno l'alternanza scuola-lavoro non permetterebbe un controllo di questo tipo, insomma sarebbe anche un po' macchinosa come misura. Di certo l'impegno perché l'alternanza sia fatta bene è un impegno che Regione, a livello un po' di coordinamento può fare e credo abbia dato già un suo diretto contributo con tutte queste ore che sono state fatte e che ovviamente continuano. Dei percorsi di studi di cui parlavamo prima, qual è il bilancio ad oggi degli ITS invece e anche del loro futuro? Lo stesso discorso, guardi, io lo ringrazio per questa domanda, ma è lo stesso discorso che abbiamo fatto sulla formazione professionale. La formazione professionale è fatta di tante età e di tanti step, esattamente come la formazione ordinaria. Esistono gli ITS che sono il parallelo della scuola, delle scuole superiori, esistono gli IFP che sono i corsi di formazione professionali triennali che sono il parallelo della scuola tradizionale, delle scuole superiori e poi esistono gli ITS che sono l'università nella formazione professionale, ovvero quei ragazzi che non vogliono andare all'università perché non se la sentono di fare un percorso triennale di studio o un percorso quinquennale di studio ma vogliono avere una formazione alta, formazione professionale mirata all'occupazione, possono scegliere il percorso ITS che non è assolutamente da confondere, cosa che spesso si fa, con l'istituto superiore dei 5 anni che portano al diploma. No, questo è un corso, sono corsi post-diploma, quindi bisogna avere come requisito il diploma, possono accedere i diplomati e abbiamo adesso 15 corsi attivati in tutta la regione per 4 ITS e per 4 fondazioni. Sono tanti i corsi che abbiamo attivato ed hanno un'occupazione altissima, di oltre il 90%, solo che sono poco conosciuti. Per cui bisogna anche in questo caso ripeterlo, lo facciamo questa sera, faremo anche una campagna di comunicazione su questo, perché sono corsi che siccome vengono attivati da fondazioni, le fondazioni hanno al loro interno le aziende, per cui sono fondazioni che partono da un ente di formazione che però al proprio interno ha già le aziende, quindi va da sé che vengono emanati corsi su ovviamente delibera di regione Liguria, scelta di regione, finanziamento di regione Liguria, vengono emanati corsi che rispondono già direttamente alle esigenze delle aziende, per cui chiaramente l'occupazione è di fatto immediata. Abbiamo un esempio qui in questo territorio, perché la scuola di Lavagna, nella villa qui di Lavagna, nasce dall'esigenza di una grande compagnia di crociere come MSC, che ha fatto l'accordo con l'Accademia della Marina Mercantile, la quale proprio per venire in conto delle esigenze di MSC, che sono esigenze occupazionali, di formazione ma occupazionali, ha proposto a regione l'attivazione di due nuovi corsi che non sarebbero mai partiti senza quell'azienda dietro e senza una sede che è stata individuata dall'Accademia, ma che sono partiti e sono il middle manager e il multimedia technician che è l'esperto delle tecnologie a bordo. Sono partiti e hanno un esito occupazionale alto. Sapete qual è il problema di questi corsi? Fare la classe, perché c'è l'azienda, c'è l'ente di formazione, c'è anche una bella villa, ma poi è difficile far capire ai ragazzi l'opportunità lavorativa che arriva da questi corsi e quindi le classi si fanno, ma diciamo a pelo, cioè 20 ragazzi per una classe da 20, mentre un'azienda come MSC, ma questo vale anche per Costa che invece ha stretto sempre accordo con l'Accademia nella seda da Renzano, ma vale un po' per tutti i corsi TS che abbiamo avviato, abbiamo anche quello dell'ICT sulle tecnologie a Genova, abbiamo quello legato alla cantieristica Spezia, abbiamo quello dell'energia Savona. Tutti faticano ad avere un numero di ragazzi sufficiente per fare una selezione e le aziende hanno bisogno di fare un po' di selezione. Se arrivano 20 ragazzi e devi prendere tutti i 20 per far partire il corso, chiaramente può diventare alla lunga un problema. Quindi noi dobbiamo tutti insieme provare a far passare anche questa cultura dell'ITS. Regione Liguria ci crede, abbiamo avviato anche in questo caso un dialogo come Regioni col Ministero per il riparto dei prossimi fondi TS, ci stiamo credendo tutti e devo dirlo ci sta credendo soprattutto Confindustria, perché il Presidente Boccia, ma non solo sul territorio, tutti gli incontri che facciamo, ha speso parole per l'ITS chiarissime quando ha fatto la sua visita al Salone Orientamenti il novembre scorso, tornerà il prossimo novembre, anzi approfitto per dirlo, dal 12 al 14, chi ci ascolta e vuol venire già a metterselo in agenda, portiamoci avanti perché sarà un appuntamento importante, tutto il Salone, tornerà il Presidente di Confindustria a dire e incentivare l'ITS, perché è chiaro sono quella specializzazione che serve alle aziende, che sono saper fare tecnico, corsi di due anni che specializzano e occupano in maniera rapida e aiutano a ridurre il gap di competenze, perché adesso cinque anni per formare, difficilmente le aziende li hanno. Le rivolgo per chiudere il tema, questa domanda che arriva da casa la possiamo vedere, qualche anno fa tramite il Centro per l'impiego avevo seguito un corso di contabilità base, si era rivelato molto interessante, ne volevo seguire un altro di livello superiore, non c'erano fondi di finanziamento, volevo sapere se si sta muovendo qualcosa, cosa possiamo dire? Tanto salutiamo una ragazza, salutiamo Sara, non so se l'ha fatto in zona, se l'ha fatto in altri luoghi e chiaramente i centri per l'impiego sono parte della delega del lavoro che non ho, ma io penso possa aver partecipato a un corso di contabilità che era qui nel Tiguglio, che tra l'altro ha avuto un indice di occupazione molto alto dell'87%, non so se si riferisce a questo, quello che io posso dire a Sara non avendo ovviamente a mente tutti i corsi attivi è che sicuramente sul sito di Regione Liguria, quindi www.regione.liguria.it trova i corsi che sono attivi, altrimenti abbiamo uno sportello di Alfa che può dare tutte le informazioni, se non è attivo un corso adesso è possibile che venga attivato quando chiudiamo la valutazione del pacchetto giovani, che è un pacchetto che vale 8 milioni di euro, 8 milioni di euro sono tanti corsi, per cui noi stiamo aspettando i progetti, in realtà sono arrivati molti progetti, c'è la selezione in corso, è possibile visto che era prevista anche questo tipo di materia nei settori per cui si potevano presentare progetti, che qualche cosa parta, diciamo che la valutazione sarà chiusa entro un mese, per cui nei prossimi mesi, ecco, mi sento di dirle questo. Prima di chiudere le voglio fare una domanda per quanto riguarda il nostro territorio, ma lo citavo anche lei prima, sulla questione proprio del linguistico, siamo rimasti un po' nel limbo, volevamo sapere qual era la, se c'è stata una soluzione finale. Io ho già fatto delle dichiarazioni in passato, quando sono stata ragionevolmente sicura della soluzione trovata, e quindi lo ribadisco oggi, e sono sicura della situazione trovata, altrimenti ovviamente non parlerei. Sul discorso del linguistico ci tengo a dirlo, non c'è stata nessuna volontà di non recepire le esigenze del territorio e delle famiglie del territorio, esigenza che era doveroso ascoltare, doveroso dare una risposta e l'abbiamo data, certo c'è stato, diciamo, qualche ingranaggio che non ha funzionato, che ha funzionato male nelle competenze, non c'è stata una chiarezza iniziale di competenze, per cui a me spiace se si sono create delle illusioni, a cui poi però noi abbiamo dato seguito con degli atti concreti, perché sostanzialmente c'è stata una delibera di città metropolitana che diceva apertura del liceo linguistico a Chiavari. La competenza per il dimensionamento scolastico, per il piano dell'offerta formativa, come ci ricordavamo anche prima, il dirigente scolastico, non è delle singole province o città metropolitane, è di regione Liguria e non è mia come assessore, è di un consiglio regionale che deve votare una legge, quindi nessuno può andare in un territorio a dire apre un liceo linguistico senza che questo sia passato chiaramente in un dibattito di consiglio regionale e in una legge approvata da un consiglio regionale. Quindi l'errore è stato divulgare sul territorio una soluzione che non era ancora tale, che doveva ancora passare alcuni vagli, non solo dell'assessorato, perché ovviamente poi nelle delibere che recepiscono i voleri e desiderata delle province che a loro volta fanno delle delibere che confluiscono in regione, devo tenere conto di quello che dice la legge e la legge regionale dice che non si possono attivare indirizzi identici stessi indirizzi di studi se nello stesso ambito formativo ne esiste già un altro, perché ovviamente si rischia la chiusura dell'altro. Quindi di fronte al fatto che in questo territorio con lo stesso ambito formativo era già presente il liceo linguistico, che era quello di Rapallo, non per una sorta di campanilismo, perché voglio dire sono qui a Chiavari e sono credo presente a Chiavari così come lo sono a Rapallo, non è stata una scelta, ma è stata una scelta tra chi c'era prima, Rapallo era già presente, quindi la legge ci impediva di aprire a cuor leggero e così facilmente andare a dire apri il liceo linguistico a Chiavari. Abbiamo aperto un dibattito in consiglio regionale, prima in commissione che poi ovviamente è sfociato in un voto di consiglio e la soluzione trovata, io ritengo corretta, è stata quella e io ho riaperto il dibattito perché la delibera di regione Liguria era non si può aprire un identico istituto. Poi però ho chiesto al territorio, ai consiglieri del territorio e ho riaperto il dibattito. Il dibattito, il confronto ha portato alla soluzione di aprire a Chiavari la succursale di Rapallo. A quel punto che voleva dire per le famiglie però sostanzialmente avere il servizio, quello che contava era dare una risposta alle famiglie che già si prefiguravano di poter iscrivere i loro figli ovviamente in una scuola a Chiavari, in un linguistico a Chiavari. A quel punto cos'è successo? Che la soluzione ipotizzata non da noi perché regione Liguria non ha la competenza della collocazione degli istituti, l'edilizia, la logistica scolastica non è competenza di regione ma di città metropolitana e la soluzione che città metropolitana ha avanzato che noi pensavamo fosse una soluzione adeguata era quella del palazzo degli artigianelli. Quando si è capito, ma ripetisco, questa non era competenza di regione Liguria, poi a un certo punto ho voluto metterci la testa perché ho capito che era doveroso farlo altrimenti non chiudevamo il cerchio. Quando si è capito, quando si è avuta contezza del fatto che la soluzione degli artigianelli era una soluzione che avrebbe comportato a cascata un spostamento un po' avalanga di tutte le dislocazioni delle scuole di Chiavari, è chiaro che si è capito che non poteva funzionare come soluzione. Io personalmente mi sono anche emossa, anche se devo dire la verità, non era una mia delega e una mia responsabilità, però l'ho fatto ovviamente per uno spirito di servizio e per dare evidentemente una risposta alle famiglie, ho dialogato ovviamente con Città Metropolitana, a quel punto abbiamo cercato insieme, però primariamente mi sono permessa di chiedere un supporto alla Diocesi e devo dire che dalla Diocesi, e io ringrazio ovviamente sia la Diocesi che il Vescovo perché hanno ascoltato quella che era un'esigenza formativa del territorio, è stata trovata la soluzione che è quella ovviamente dei locali del seminario, siamo veramente alle battute finali, delle ultimi dettagli, ma non ci sono sorprese e quindi ci sarà questa soluzione del seminario che chiaramente avrà un suo carattere di temporaneità perché non possiamo pensare di procrastinare al seminario troppi anni e troppe classi, ma sicuramente quest'anno partirà, dopodiché appunto ci sono ancora credo un sopralluogo domani, insomma c'è ancora da affinare, ma insomma visto che la domanda mi viene fatta stasera rispondo per quelle che sono le notizie di stasera, ma con una consapevolezza insomma che la soluzione trovata sia una soluzione adeguata per dare risposta alle famiglie, ovviamente con una disponibilità della Diocesi che va riconosciuta, perché ovviamente l'unione un po' di intenti ha permesso di trovare una soluzione alla collocazione di questo linceo linguistico, visto anche che le domande ci sono state e che quindi l'esigenza che era stata intercettata su Chiavari, e questo lo dico anche per il consigliere delegato di Città Metropolitana che si è impegnato su questo, era un'esigenza reale, non era un'esigenza immaginaria, per cui era giusto dare una risposta, è stato un percorso forse un po' tortuoso, ma quando poi la soluzione arriva direi che insomma dobbiamo vedere assolutamente il positivo. Temporanea per un anno in attesa poi nel caso di trovare anche un altro spazio. Ma può anche essere di più di un anno, chiaramente vediamo anche quello che accade negli altri spazi della città, insomma ci sono diversi immobili. Ripeto, poi non essendo una mia delega piena qui mi fermo perché altrimenti poi travalico. Va bene, siamo giunti al termine della trasmissione. Invece c'è un'altra questione che a me sta abbastanza a cuore, che è quella di un altro liceo che è il liceo sportivo, delle giannelline, ha seguito insomma chiaramente il rapporto qui è diverso perché essendo una scuola paritaria noi non abbiamo diciamo una competenza sul piano di dimensionamento dell'offerta formativa, quindi non interveniamo sugli indirizzi, però mi fa piacere dire che tutto quello che possiamo fare, sicuro per la scuola paritaria in generale, insomma su livelli delle borse di studio, sull'erogazione delle borse di studio dai comuni al territorio, credo che lo abbiamo fatto e che sia chiara la politica e il riconoscimento di una pari dignità che deve avere la scuola paritaria rispetto alla scuola statale, o meglio la libertà di scelta delle famiglie per l'uno o per l'altro percorso. Sul caso specifico ovviamente c'è la piena disponibilità a dare un supporto se fosse necessario per fare in modo che il liceo sportivo a cui credo tante famiglie tengano, insomma possa assolutamente continuare, ma mi sembra che non sia una mia volontà, la mia può essere di rimbalzo di fronte a una chiara volontà che c'è del territorio e che credo che sia assolutamente apprezzabile. Grazie per questa giunta Sessore, per essere stata con noi, buona serata, buona serata anche a Norbert Cuncler e Maurizio Cantamessa. Buona serata. Con il lunedì sera ci ritroviamo per il prossimo approfondimento prima di Pasqua, grazie per averci seguito e buona serata a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.